Saluto Paolo Barnard Ciao Paolo Allora, mentre si stava parlando del complotto, di queste cose, si stava parlando anche del tuo intervento Con i blogger Questo video è del 2011, 15 novembre 2011, una puntata di Matrix, il tocco solo di Canale 5 Era ospite Paolo Barnard, sentite un po' di cosa parlava Che cosa stava dicendo, vai Abbiamo Mario Draghi che ha fatto un golpe, questo va detto, permesso dal Presidente Napoletano Mario Draghi poteva salvare l'Italia Ha parlato, Paolo, parlava di golpe di Draghi col permesso di Napolitano Grazie Diego Questo per dire che Alan Friedman ha scoperto l'acqua calda O forse adesso è arrivato il momento di poter dire certe cose, ne riparleremo dopo Paolo Allora, i gol finanziari, no, stiamo parlando di una cosa assolutamente tragica Che ha consegnato l'Italia alla disperazione che voi fate vedere da mesi nelle vostre puntate E questa è veramente una tragedia, un gol finanziario non si costruisce in 5 minuti Io nell'ottobre 2011 avevo scritto una lettera aperta a Silvio Berlusconi che mi furtò l'invita Matrix Dove pensavano che io facessi le lodi di Berlusconi, non ho mai votato Berlusconi, non voterò mai Berlusconi in vita mia Però un gol è un gol, se è contro Berlusconi non è un gol minore Allora, io avevo scritto una lettera nell'ottobre 2008 a Berlusconi dove si dicevano tre cose Presidente, è inconcepibile, incomprensibile che lei non scelga di salvare la nazione Rendendo pubblico che esistono responsabili italiani ed europei di questo colpo di Stato finanziario Presidente, se l'Italia verrà consegnata dal gol finanziario in atto nelle mani del Partito Democratico Per noi sarà la fine, i volti di Mario Monti, di Mario Draghi sono le maschere funibri di questa nazione Il cerimoniere complice si chiama Giorgio Napolitano, ottobre 2011 Ok, allora, dicevo, un gol finanziario non si costruisce in 5 minuti Quell'uomo, Silvio Berlusconi, cominciò a ricevere tizzini, cioè avvisi mafiosi finanziari Fin dal 2006, li possiamo vedere, li leggiamo, dalle più autorevoli testate Questo è un grande network di destra economica di Londra, Sokol Network Siamo delusi dalla differenza fra la retorica del libero mercato di Silvio Berlusconi E la sua reale capacità di fornire le riforme Poi abbiamo, dopo 2006, The Economist, l'Italia necessita di riforme radicali Ma Berlusconi, in teoria un liberista economico, ha fatto quasi nulla Andiamo avanti 2006, Der Spiegel, Berlusconi non ha mai mantenuto le promesse di taglio alle tasse Ulteriori privatizzazioni e riforme strutturali Avanti con i piscini 2006, Alesina Barbar, l'Italia ha bisogno di riforme neoliberali Tra cui ridurre le tasse, taglia l'impiego pubblico e alle pensioni Arriva la Fornero Nel 2008, questa è clamorosa, il Wall Street Journal Berlusconi ci ha deluso Si è rivelato un nemico corporativo del libero mercato Ora, a questo Financial Times, Berlusconi deve seguire l'esempio della faccia E sfidare i sindacati Berlusconi si trova a suo agio a fare il dirigista statale Berlusconi non voleva fare le riforme dell'economicidio, della chemiotassazione Che hanno distrutto oggi l'Italia dopo i governi molti eletta Allora, questo è un altro pezzino del Fondo Monetario Internazionale Ora, cosa succede nell'estate del 2011? Possiamo vedere un grafico, per favore? Ecco come si prepara Ecco, per spiegarlo molto semplicemente a casa Le colonnine blu sono gli acquisti da parte della BCE dei titoli di Stato italiani Quando i titoli di Stato vengono acquistati Il famoso spread che ha terrorizzato tutti cala Guardate lungo tutta l'estate del 2011 cosa fa la BCE Prima di Trisce poi arriverà Draghi Smette quasi totalmente di comprare i titoli di Stato italiani Quindi lo spread va alle stelle, l'allarme sulla stampa va alle stelle Torcono il polso a Berlusconi perché accetti le riforme del Fondo Monetario Internazionale A fine estate Berlusconi dice le accetto Ricominciano a comprare i titoli italiani Ma quando poi Berlusconi non mantiene la promessa fatta al Fondo Monetario Internazionale Ritorna a scendere, ritorna a scendere gli acquisti Lo spread ritorna alle stelle È il momento della caduta di Silvio Berlusconi E adesso la prossima grafica è fondamentale Un'agenzia di finanza internazionale in Florida AWM Securities L'8 di novembre, il giorno prima del golf Dice per i BTP tutti gli schermi dei venditori si sono azzerati Non c'è più liquidità, non ci sono quotazioni neppure per i BTP a 10 anni L'Italia ha l'elettroencefalogramma piatto Berlusconi è costretto a dimettersi Tutto questo che abbiamo appena detto io so da fonti interne ad Arcole e al PDL A Forza Italia che arrivò sul tavolo di Berlusconi Già nel 2011, 2012, 2013 Ed è incomprensibile perché questo uomo non ha scelto di fare lo statista E salvare il paese dalla catastrofe che è venuta dopo O forse è troppo comprensibile per altri versi Perché ha accettato di salvare se stesso e magari le proprie aziende